Ciao a tutte pandine, eccoci qua per un nuovo video Allora, oggi, come promesso, vi volevo fare il video tanto atteso, ovvero il room tour Allora, io sono felicissima di fare questo video perché è un video che anche a me piace tantissimo Quindi spero che anche il mio vi piaccia Quindi, bando alle ciance e iniziamo Allora, partiamo appunto dalla porta Che è questa, con tutti i poster È un calendario e quei pattini lì che sono da ghiaccio Però io non faccio pattinaggio sul ghiaccio ma faccio a rotelle Però, appunto, erano carini, li ho presi due anni fa per Natale Dopo li ho tenuti qua perché sono veramente carini Come decorazione per la stanza Poi qua, in questo angolo, che di solito è quello che vedete Presto a poco nei video, un po' di coppe, di pattinaggio e... Insomma, le borse e un pezzo di armadio Sì, eh? Qua ho le mie varie borse e qua ho vari giochi di società, adesivi, make-up, porta chiavi, insomma varie cose E qua, appunto, le coppe Poi, anche qui ho coppe E qua ho vari quadretti e medaglie Lì, le mie tre medaglioni Una, due E la, tre E qua altre coppe Qua ci sono i miei cassettini Vedete Con varie cianflusaglie che a me piacciono Però non interessano a voi Ok Poi Si, coppe, vabbè Qua ho la mia collezione di Monster Egg Che adesso non faccio più collezione Però, sinceramente, ce ne ho tante Come si può vedere da sotto Vedete che è trasparente dai piedistalli Quindi, sinceramente, darle via Cioè, adesso non mi interessa più collezionarle Però era peccato darle via Perché Cioè, ho sudato tanto Per avere una così grande collezione Insomma, perché Le Monster Egg non è che costino poco Anzi, costano sui 20 euro Se mi ricordo bene, insomma Certe per il compleanno Certe per la Befana Certe per Natale Certe per la promozione Insomma, certe per varie cose Insomma, le ho accumulate tutte Cioè, tutte Insomma, tante, ecco E quindi le tengo qua su Dopo ho la mia borsa Vicino al mio letto Quella che Che uso adesso Per i miei smalti Qua c'è il mio comodino C'è la mia lampada Ikea E qua ho varie cosine Insomma Qua ci sono io Ciao E questo è il mio specchio Che ho vicino al letto Dopo qua ho dei quadretti Qua ho vari peluche Su queste mensole qui E qui E qui ho l'orologio Che si è rotto Cioè, no, rotto Però devo cambiare le batterie E qua ho un'altra Un'altra cornice Insomma, dove ho Delle immagini In bianco e nero Delle cascate E questa qua Queste cornicette qui Le ho prese tutte Ikea E anche mi sembra L'orologio E Sì Questo è il mio letto E qua C'è questo bambolotto Diciamo Che è una Che è batch patch Se volete andare a vedere Che sito è Ce l'ho da Tipo Due o tre anni E Sono delle bambole americane Nate Diciamo Non in senso brutto Ma è verità Da questa pianta Appunto Dal cavolo Ecco E insomma Anche mia mamma Cioè Perché Sono diciamo Fatte da Molto Molto Da tanto Tanto tempo E quindi Questa è diciamo La serie nuova Fra virgolette C'è ogni bebè Che ho da Appunto Due o tre anni Mentre Quella di mia mamma È normale Una bambola Normale Della regalata A mio papà Quando appunto Sì Della regalata A mio papà E Quindi Se vi interessa Potete digitare Su internet Cabbage Patch È lì Trovate E appunto Trovate queste Bambole Che è Patch patch Insomma Qua Ho l'angolo Reparto Diciamo Musica E Eletronica Qui Ho due peluche E quindi Questo è il mio letto E questa è la vista Dall'alto Della mia stanza Eccoci qua E Questa parte qua sotto Non ve la posso fare vedere Perché qua C'è Lo spazio Di mia nonna Appunto Il resto è il mio Però Qua sotto C'è mia nonna Quindi Non vi faccio vedere Adesso vi faccio vedere Appunto Quella parte là Ancora E dopo è finito Perché appunto Non c'è altro Da farvi vedere Ah sì Vabbè La scrivania Ho la mia cestina Molto interessante Aiuto Dei Diddle Qua Il mio stereo Questo Questo Agendino Veramente Veramente Carino Che ho comprato Ed è fantastica E non la uso Per Youtube Però la uso Insomma Per quando vado in gita Tipo sono andata a Trieste E L'ho usata A sentire A sentire parlare Due sopravvissute Alla sua E Insomma Sì Stereo Quarnicetta Con il mio cagnolino Quando era più piccolo Quadretto Insomma Sì Lo scaccio Sogni Brutti Credo Che si chiami così E questa roba qua Insomma E L'ho presa Quando ero più piccola Poi qua Ho un adesivo Della Apple Ovviamente Qua Un quadretto Con la lampada Qua Una cosa che Vi farò Vedere meglio Cioè Non è il suo posto Fisso qui Perché Forse la sposterò Perché non ci sta bene Però Insomma Vi farò vedere Cosa c'è all'interno Perché per me È speciale Però In un video Chiacchiericcio Magari Ecco Ve la faccio vedere Vlog Insomma Così Qui C'è L'armadio Enorme Che Però Non I miei vestiti Sono solo In queste due ante Qua E qua Che poi ci sono Dei cassetti Solo Questo Qua Ci tengo Ci tengo Insomma I vestiti Adesso estivi Mentre qua Ci tengo In queste In questo Aspettate Che non riesco Pronto Questi due Sono i miei vestiti Insomma Robbe Qua Cambio stagione E In questo In questo In questo Questo Spazio Insomma Ci tengo Cuscini Varie fedele Altri piumini Insomma Varie cose Ecco Va bene Quindi Così E dopo Ho questa parte Che c'è la mia Poltrona Ah vabbè Il mio computer Che è vecchio Quindi Non mi va più Perché poi Ho un sacco di problemi Quindi non lo uso Però è vecchio Sì Dovrei cambiarlo Però Vabbè Non mi importa Perché tanto C'ho già l'ipadmini Che lo sostituisce Quindi va bene Poi Ho La poltrona Striccione Che lo uso Povero Come cuscino Perché ci appoggia La schiena Perché è molto comodo Qua appunto La parte Di mia nonna E qua Ho Una Sì Una vetrina Diciamo Dove ho Delle miei Collezioni Molto preziose Qua ci tengo Le collezioni Preziose Ma sia mia Che di mia mamma Però Vi farò vedere meglio In un prossimo video Qua ci tengo La mia libreria E qua I miei squishy La mia collezione Di gomme Che Gommine Che Vi devo fare Il video Qua la mia Agendina YouTube E qua Le mie cover Dell'iPhone E dell'iPad Che vi farò Il video update Quindi Quindi Niente Questa E la mia Stanza Niente Scusate Per i miei vestiti Però Sono appunto A casa Un abbigliamento Molto casalingo Casalingo Che sto dicendo Casalingo Spero Tantissimo Che il video Vi sia piaciuto Io vi mando Un bacio Ci vediamo Alla prossima Ciao Ciao